Sono qui per fare il teatro perché voglio diventare un attore. Un laboratorio teatrale rivolto a italiani di seconda generazione immigrati residenti a Sansepolcro e Arezzo dai 14 ai 90 anni. Sono esercizi banali ma in realtà veramente il ritmo serve tantissimo per la parola, per il corpo, per la gestione dello spazio e per creare proprio anche gruppo. E' questo il progetto realizzato dall'Associazione Culturale Kilowatt in collaborazione con l'Associazione Bangladesh Arezzo Fraternità dei Laici ed infine l'Associazione Timone in seguito alla vittoria del Bando Nazionale Migrati 2017 promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. La finalità è molto importante perché è l'integrazione e quindi è in specifico un progetto per residenti in Italia o seconde generazioni e quindi coinvolgere le persone che hanno scelto e scelgono l'Italia in qualche modo e integrarle tra di loro e farsi anche contaminare e soprattutto farci contaminare perché è la cosa più importante. L'obiettivo è quello di mettere in scena uno spettacolo ispirato alla commedia Gli Uccelli di Aristofane. Creare con loro questa storia, portarci dentro le loro storie camuffate o anche no e soprattutto riscoprire i loro talenti perché sono ragazzi che sanno suonare, sanno ballare, sanno cantare e si mettono veramente in gioco. Io sto scoprendo personalmente un mondo meraviglioso e quindi sono contenta che andrò a condividerlo a luglio, metà luglio, il 13 luglio a Sansepolcro e l'11 luglio ad Arezzo. Sono molto contento di fare questa cosa, forse penso che anche altri lo stesso. Grazie!